10 nuove guarigioni sono state registrate ieri a Torre del Greco. Certificate anche 26 case di positività al Covid-19, di cui 3 in regime ospedaliero e 23 in isolamento domiciliare. Attestato anche il passaggio di un soggetto positivo dal regime ospedaliero all'isolamento fiduciario. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco. Sono 27 i soggetti ospedalizzati, 294 posti in isolamento domiciliare, 2.406 guariti e 79 deceduti. A Torre Annunziata sono 60 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrate nel giornate di lunedì 11 e martedì 12 gennaio. Al contempo si certificano anche 24 guarigioni. Sale a 221 il numero di cittadini attualmente positivi, 212 posti in isolamento domiciliare e 9 ricoverati. Sale a 1.606 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.354 guarite e 31 decedute.